Inizia un'altra settimana interessante. Se vuoi sapere quali sono i tre mercati da tenere d'occhio questa settimana, continua a guardare questo video. Pasqua si avvicina e le condizioni di liquidità potrebbero essere ridotte, soprattutto nella seconda metà della settimana, quando alcuni dei mercati saranno chiusi per ferie. Tuttavia, ciò non significa che questa settimana sui mercati sarà noiosa. Il primo mercato da tenere d'occhio è l'S&P 500. Questa settimana è prevista la pubblicazione di una serie di rapporti macro-statunitensi di alto livello, inclusi gli indici ISM di marzo, manufatturiero lunedì e servizi mercoledì. Il rapporto ADP sull'occupazione di marzo mercoledì e il rapporto NFP di marzo venerdì alle 14.30 ore italiane. L'NFP sarà il rilascio più seguito, ma va notato che verrà rilasciato un giorno in cui la maggior parte dei mercati finanziari in Occidente, compresi i mercati statunitensi, saranno chiusi in osservazione del venerdì santo. Detto questo, ci potrebbero essere movimenti notevoli sui mercati, dei futures grazie alla liquidità ridotta. Il secondo mercato è il petrolio. Durante il fine settimana, i membri dell'OPEC+, hanno annunciato significativi tagli alla produzione di petrolio, che sono stati una sorpresa per gli investitori e hanno causato un'impennata dei prezzi del petrolio all'inizio della settimana. Otto paesi del gruppo hanno annunciato un taglio totale di oltre un milione di barili, in vigore da maggio e fino alla fine dell'anno. Inoltre, la Russia ha esteso il taglio della produzione di 500.000 barili fino alla fine del 2023, nonostante le precedenti previsioni prevedessero la fine entro giugno 2023. Questa riduzione dell'offerta ammonta oltre l'1% della produzione globale e ha causato un aumento dei prezzi del petrolio di oltre il 5%, con il Brent scambiato intorno agli 84 dollari e il WTI che si aggira appena sotto la soia di 80 dollari al barile. Tuttavia, questi tagli potrebbero suggerire che l'OPEC nutre preoccupazioni per la prospettiva della domanda, che potrebbe avere un impatto sui prezzi del petrolio a lungo termine e potrebbe rivelarsi un fattore importante nelle tendenze dei prezzi a lungo termine. Inoltre, Goldman Sachs ha aggiornato le sue previsioni sul prezzo del petrolio a seguito di un taglio a sorpresa della produzione da parte dell'OPEC. La banca prevede ora un prezzo del Brent di 95 dollari al barile nel dicembre 2023, precedentemente era di 90 dollari, e 100 dollari al barile nel dicembre 2024, con una stima precedente di 97 dollari al barile. Il terzo ed ultimo mercato di questa settimana è la coppia dollaro australiano-dollaro canadese. Questa coppia è una delle coppie FX che potrebbe vedere movimenti più ampi questa settimana. La Reserve Bank of Australia annuncerà una decisione sui tassi martedì e si prevede che i tassi rimarranno invariati. La pausa nel ciclo di aumenti dei tassi è stata ben comunicata dall'RBA, quindi l'effetto sorpresa sembra improbabile. Tuttavia, la dichiarazione di accompagnamento potrebbe contenere alcune novità. Questa coppia potrebbe anche vedere alcune mosse giovedì quando il rapporto sui lavori canadesi per marzo verrà pubblicato alle 14.30 euro italiana. La coppia è tornata alla media mobile di 200 sessioni la scorsa settimana ma non è riuscita a scendere al di sotto. Se ti è piaciuto questo video lasciaci un like e facci sapere nei commenti quale mercato terrai d'occhio tu questa settimana.